Io sono contentissimo di essere in una società come il Parma e poi in questa squadra. Abbiamo fatto, secondo me, un ottimo ritiro, anche perché i ragazzi hanno avuto meno tempo di recupero, dato il fatto che hanno fatto i playoff di Lega Pro, io magari ho avuto più tempo, quindi sono andato anche un po' più in fatica. Però è stato un ottimo ritiro e, ripeto, sono molto felice di essere qui. Con il mister abbiamo parlato, comunque sì, io sono sempre un ragazzo, devo andarmi a meritare il posto. Davanti ho giocatori molto bravi, non mi aspetto nulla, devo lavorare, devo migliorare in campo e devo cercarmi di conquistare il posto. Sono un giocatore molto di corsa, diciamo tecnica, non moltissimo, però quello c'è sempre da lavorare. Sono uno che in campo cerca di dare sempre il massimo. Per me siamo un ottimo punto, anche nelle amichevoli che abbiamo fatto, diciamo, siamo riusciti ad esprimere un buon gioco. Stiamo andando bene, certo c'è ancora da migliorare e da conoscerci ancora meglio, però, ripeto, siamo un buon punto. Stiamo andando Grazie a tutti